Volevo spiegare la faccenda delle modalità di ingaggio in un contesto di sicurezza, ok? Cioè fin dove possono spingersi gli uomini della sicurezza? Certo, perché anche tra le tante puttanate che leggo è ma dovevano sparare prima, se l'avevano avvisati un quarto d'ora prima, due minuti prima. Noi immaginiamo il contesto, c'è una manifestazione, un politico parla, ha bisogno di sicurezza e ci sono vari uomini che vengono messi nei vari posti, ok? Ora a capo di questa sicurezza c'è una certa Kimberly Cheatle che è una donna messa lì da Biden a capo delle SS che non sono le Schutstaff, sono i servizi di sicurezza, l'acronimo è identico ma ovviamente cambia tutto, c'è anche chi si è sbagliato e ha scritto delle cose assurde poi lo vedremo, perché ci sono i documenti. Quindi è stata messa a capo questa signora perché per la parità di genere eccetera eccetera è un servizio che hanno sempre fatto gli uomini, mettiamo le donne, anzi devono aumentare le donne poi abbiamo scoperto tra l'altro, dopo lo vedremo, che purtroppo le donne sono un po' più bassine non riescono a coprire, ovviamente la differenza di statura c'è, no? Ok, poi non riescono a maneggiare le armi come le maneggia un uomo, quindi alliello di sicurezza io non so se questo è la giusta, ecco guardate l'immagine, ecco questa non riesce, cioè ma vi rendete conto un addetto alla sicurezza, uno dei servizi più importanti del paese più importante al mondo non riesce a infilare la pistola nella fontina? Cioè, ragazzi, siamo fuori da ogni logica e tutto questo perché? Beh, perché per la parità di genere bisogna inserire anche delle signorine a fare questo lavoro e vabbè, è stata fortunata che non ha preso una pallotta. Adesso, al di là di questo, comunque chi era capo ha organizzato, ha disposto tutti gli uomini nei posti. Ora, fermiamoci un attimo a riflettere sul fatto che forse sono stati commessi gravi errori di posizionamento e gravi lacune, questo sì, però andiamo avanti, perché c'erano degli uomini disposti. Ora, se io sono un addetto alla sicurezza e rispondo al mio capo e mi dicono mettiti lì e controlla questo tuo perimetro, questa tua area, io non mi posso muovere da lì. Se io mi muovo da lì, dovessi muovermi da lì e dovesse accadere qualcosa in quel posto dove io dovevo presidiare, io finisco sotto processo. Quindi io da lì non mi posso muovere. Poi arriva un tizio e mi dice, guarda che c'è qualcuno che è salito sul tetto, io prendo la mia radiolina e comunico al capo. c'è uno che è salito sul tetto, ma quel capo, se c'è un errore a monte e non ha gli uomini per mandarli a controllare, dove li toglie? In un altro punto? Magari dice ai cecchini, guardate controllate eccetera eccetera. Quindi lì è chiaro che c'è stato un errore di sottovalutazione, quel tetto doveva essere controllato. Ma quello è l'errore, è la madre di tutti gli errori. Quello che è accaduto dopo è assolutamente normale. Perché altri uomini controllavano aree. E vedete, chi conosce bene questa materia sa perfettamente che possono esserci anche dei false flag. Cioè, il tizio che sale sul tetto poteva essere tranquillamente una distrazione. Tu togli un uomo da un punto chiave per andare a vedere questa cosa e in quel punto chiave si introduce il vero assassino e poi spara al presidente o a chiunque altro. Quindi i luoghi presidiati non possono essere toccati. Lì c'è stato un errore di programmazione. Gli unici che potevano far qualcosa erano i cecchini. Ma anche loro non potevano sparare solo perché c'era uno sul tetto magari con un fucile. Perché, vedete, non siamo in guerra. Non era un'azione di guerra. Non era una modalità di guerra. In guerra il cecchino che vede un nemico appostato gli spara, punto. Perché quello è il suo mandato. È una guerra. L'altro è un nemico e quindi io se c'è uno appostato lo vedo e gli sparo. Non c'è bisogno di chiedere al comandante se può sparare perché quella è una guerra. Le regole di ingaggio di una guerra sono diverse dalle regole di ingaggio della sicurezza in tempo di pace. No? Almeno apparente. Ecco, però il cecchino voi ve lo immaginate il cecchino che spara un ragazzo di vent'anni su un tetto e lo uccide? Il giorno dopo il giorno stesso cosa può accadere? Che al comizio di Trump è stato ucciso un povero giovane di vent'anni dice ma c'aveva un fucile ma come facciamo a sapere se è vero se è falso se è uno squilibrato cioè non puoi uccidere una persona così non esiste una regola di ingaggio nel mondo civile non di guerra non militare di guerra che preveda che se una persona guarda un sospetto lo può uccidere a vista non è previsto perché se no tutti i cecchini del mondo tutti i polizi potrebbero sparare a chiunque solo perché l'hanno visto con un'arma in mano ma l'arma negli Stati Uniti ce l'hanno tutti quindi è inutile le persone che dicono dopo nel momento in cui tu ti accorgi che è una minaccia impieghi quei secondi per neutralizzarlo lo devi immediatamente neutralizzare nel momento in cui hai la certezza che è una minaccia per la sicurezza e la vita dei civili però questo avviene dopo ma voi vi mettete nei panni di un comandante che deve dare ordine a un cecchino di sparare una persona prima ancora che questa avesse commesso un delitto poi dopo faremo anche un altro esempio più grave per far capire meglio questo concetto ma nella società civile nella sicurezza civile di guerra non puoi sparare preventivamente a qualcuno dovresti al contrario assicurarti preventivamente che l'area fosse sicura poi sicuro non è mai nulla al 100% ma di sicuro i tetti ti devi controllare e lì c'è stata una grave gravissima mancanza ma a quel punto non potevi più fare nulla c'era una sola cosa che si sarebbe potuta fare ma non c'era il tempo dire a Trump di uscire abbassarsi scappare ma anche in quel caso nel momento in cui tu crei un qualcosa che potrebbe magari mettere l'assassino in guardia quello poteva magari fare una strage peggiore in mezzo alla gente quindi come fai sbagli si dice in quel caso hai sbagliato all'inizio a non presidiare quei tetti e un perimetro ben più ampio c'è stato un errore e credo che cadranno delle teste molte teste a cominciare dalla signora lì messa lì per fare la parità di genere ma che ha commesso degli errori marchiani enormi giganteschi ma io ritengo che tutto quello che è accaduto dopo sia assolutamente corretto anzi i cecchini hanno impiegato pochissimo tempo a neutralizzare la minaccia per la popolazione hanno impiegato veramente secondi due tre secondi ma neanche sono stati anche bravi prima non potevano sparare lo capite sì o no non potevano sparare e anzi ritengo che chi lo ha fatto dopo si è preso lui una responsabilità perché io non credo che poi sia stato autorizzato a fare non ha avuto il tempo ha agito distinto e quindi dovrà giustificare anche questa sua reazione di soluzione